Un'altra giornata 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 vi volevo cantare una canzone quale canzone potete scegliere ho un vasto reperdorio te canti? te canti? ti chiuso? no? allora faccio un moderatore che non mi riesce perché non riesco a moderare me stesso figuriamoci gli altri comunque buonasera è bello essere qui grazie viva viva i ragazzi e bravi allora io sono contento tutto sommato devo dire raramente sono contento di qualcosa ma sono contento invece stasera di potermi moderare questo evento perché sostanzialmente come il mio amico Gian Domenico che ormai ci stalkerizziamo a vicenda da un po' sa benissimo il nostro obiettivo come ho tornato a tv è rifondare la democrazia cristiana e quindi servizio d'ordine? e quindi diciamo in quanto rifondatori della democrazia cristiana stiamo cercando di tessere una vasta rete di alleanze anche sul piano internazionale e quindi ho colto veramente con favore questa opportunità per appunto conoscere due animatori di alcune esperienze comunicative che a livello europeo insomma sono tra le più avanzate ce ne doveva essere anche una terza che è Aaron Bastani di Novara Media che è appunto un'esperienza che chi non conosce insomma consiglio per chi capisce qualche parola di inglese insomma di frequentare sui social perché è un altro produttore di contenuti di altissimo livello e anche insomma ci si può ispirare anche per capire il tipo di lavoro che è possibile fare e stasera appunto ora io scusate non mi ricordo nemmeno cazzo di nome aspetta ecco lei è Julie Mori e cura diciamo il canale di comunicazione della Franza Insumis che si chiama l'Insumission e lui invece è Sergio perché in spagnolo si dice Sergio Sergio Gregori di Canal Red che invece è il canale di Iglesias e ora ho scoperto anche me mi ha detto lui che è anche animatore di un'altra pagina personale sua che si chiama Faro no mi ricordo è Sala e antes di Canal Red esiste un progetto chiamato Furor TV a rascontarlo come Furor TV Furor TV eh io parlo bene in lingua stranaria e niente quindi insomma l'obiettivo di stasera siccome diciamo sono l'esperienza spagnola l'esperienza francese e anche quella inglese diciamo sono un po' molto diverse dalle condizioni che abbiamo noi in Italia perché appunto diciamo sono direttamente legate a un progetto politico e noi a me piacerebbe un sacco essere legato a un progetto politico solo che quel progetto politico non c'è quindi non sono legato a una sega di niente però mi adatterò e però insomma mi interessa appunto capire e anche capire un po' se per caso nonostante non sia la loro esperienza hanno qualche suggerimento da dare a noi che partiamo svantaggiati proprio perché che però come sempre gli svantaggi a volte possono anche diventare vantaggi comunque abbiamo questa condizione oggettiva di non essere oggettivamente possibilitati a legarci mari e pieni a un progetto politico strutturato e niente quindi l'intervento sarà che faremo racconteranno in un primo giro in una decina di minuti attesta un pochino la loro cosa è il loro media insomma anche un po' di numeri magari per capire un attimo le dimensioni eccetera e poi appunto cercheremo di fare un po' di domande poi appunto ci saranno anche le domande se volete voi meno ne fate meglio è perché io voglio andare a ubriacarmi e quindi cercheremo appunto di fare delle domande un po' mirate proprio per capire dalla loro esperienza che sono esperienze tutte di grandissimo spessore e di grande successo appunto un po' di indicazioni su alcuni dubbi che sono emersi ad esempio parlo per me per Ottolina ma penso siano condivisi anche da altri sul tenore del tipo di linguaggio da avere anche questa cosa qua di cui abbiamo parlato ad esempio anche ora informalmente a tavola con qualche amico e anche prima nell'intervista con la che non mi ricordo come cazzo ti chiedo scusa ti voglio parlare lo stesso che è appunto questo un problema annoso che penso si trovino con cui si trovano a confrontarsi anche ma come non so parlare l'italiano ragazzi nella Roma Scandala lo sa nemmeno l'italiano no ma nemmeno il pisano ormai barbari cinese eh 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 esatto te stai buona di poter parlare di vorrei se manca voi no che appunto anche capire un attimo la cosa che mi interessa dopo anticipo insomma capire un attimo come si fa contro egemonia rispetto appunto all'invadenza dell'alt-right sui social con cui sostanzialmente anche noi gli ottolina poi alcune parole d'ordine tutto sommato possiamo anche condividere alcune le abbiamo anche coniate prese fatte nostre però ovviamente l'agenda è completamente diversa e quindi bisogna capire qual è l'equilibrio e come si fa contro egemonia rispetto alla pervasività dell'alt-right sui social e questo è uno dei temi insomma e niente mi chiedo perché a me Garba parla tipo 25 ore di fila perché sono il ciavez pisano e quindi niente do la parola ovviamente partiamo sempre dalle signorine perché gli uomini non dovrebbero esistere sono una razza inutile e inferiore e quindi Giulie Mori in dieci minuti raccontaci l'esperienza dell'insumission allora buongiorno a tutti io ne parla un mot di italiano sauf siamo tutti anti-facisti è qualcosa che che può dire per commencer io tenia a ringerciare tutto il mondo per l'organizzazione per l'organizzazione il ha detto il ha detto l'action politica ne vaut rien senza pensare politica claire e la france insoumise c'è un movimento politica dont il but è di prendere il modo per applicare il nostro programma l'avenir en commun qui è un programma di ruptura la france insoumise travaille sans cesse a comprendre e a far comprendre le mechanism unis le capitalismo quotidien a la catastrophe qui s'avance la catastrophe écologique notre pensée politique est donc très claire et on n'a peur des mots c'est à dire que nous mettons en cohérence notre programma le fond avec la forme on dit les choses avec clarté et on fait de chaque occasion et chaque événement une occasion d'éducation populaire et politique est-ce que tu veux que je m'arrête ok ci provo allora a detto buona sera molto felice di essere qui e lascia parlare tutti gli altri no va bene a parte gli scherzi raccontava di essere molto felice di essere a questo tavolo ringraziavo a tutti per l'invito e di condividere questo tavolo anche con Sergio di Canal Red che seguono da tempo di te non ancora ma dalla prossima volta va bene comunque diceva che quello che fa la France Insoumise è un'azione politica come ha detto Jean-Luc Mélenchon qualche giorno fa ieri l'azione politica non vale niente senza un pensiero politico chiaro e quindi quello che cercano di fare è portare avanti un programma politico un pensiero politico avendo anche cura e nessun timore di usare le parole che servono perché per veicolare un pensiero chiaro non bisogna nascondersi dietro un dito dietro le parole che sono accettate quindi anche parole di rottura servono a far passare i messaggi e unire come che ho chiamato a l'arrivo allora allora ho chiamato e c'è l'arrivo che dovremmo il quale i a da mettere in coerence la form e la forma. La France Insoumise, è un movimento politico, ma anche un movimento social e culturale, che ha vocation a creare una verità cultura insoumise. Dopo 2017, d'ailleurs, abbiamo creato un verità stile insoumise. Il modo insoumise è entrato nella grammaire del paese, e è quasi naturale di essere insoumise. C'è veramente una formazione politica. Dopo 2017, abbiamo creato due battaglie indissociabili, la battaglia culturale, la battaglia delle idee e la battaglia mediattica. Sur il plan della battaglia delle idee, abbiamo creato l'instituto Laboessi, che è la fondazione insoumise, co-presidata da Jean-Luc Mélenchon e Clémence Guettet, che è diputato di France Insoumise-Nupes. C'è un'euro di un'euro di appart tradizieна pubblica, esso come un'euro di l guten slick cui creato intellettuale di高i niveau. Dunce, mi siano lì, bene. L'instituto produzione dei notes, con degli intelletti amer decibeli, di economisci sull'economia, sull'si glitch, sull'elungito economica, sull' 這를 scoprirsi, ov ali farborsca Spevie di Lao e sentita, di mobili, come questa. On soutient l'actività parlementare. E in un anno, tutti gli intellettuali del paese sono ora felice di essere invitati a l'instituto Labo Essie, che è ora diventato il think tank di gauche del paese. E per il paese, perché nella battaglia delle idee, ci si arriva a imposto anche dei termi, come il termo planificazione ecologica. Per esempio, même Macron ha repris il termo planificazione ecologica che ha été miso sul débat pubblico, dal débat pubblico, par Jean-Luc Mélenchon. Il ha même créé un secrétariat général della planificazione ecologica che è sous l'autorità del Premier Ministro. Autant vous dire che ça ne planifie pas grand'chose. Qui, lo sforzo è quello di tenere insieme il contenuto e la forma, come si diceva, un attimo prima, e gli obiettivi principali sono di stampo sia sociale che culturale e questo ha permesso di creare nel tempo una sorta di stile, un'identità intorno al concetto di insumission, cioè di non sottomissione. E quindi essere non sottomessi è diventato proprio un fattore identitario che poi innerva tutta l'esistenza di chi si riconosce in questo stilema. Le due battaglie che portano avanti sono culturale e mediatica. Questi sono i due temi che andremo a toccare adesso. Il primo culturale lo fanno attraverso un istituto che hanno creato, fondato, che è l'Istituto La Boesie, che ha una vocazione a fare educazione popolare sui temi. Quindi aggiungo io un po' quello che facciamo qui sul piano accademico e intellettuale, quindi fornire teorie, sviluppare idee e quant'altro. La cosa paga in realtà perché oggi ci spiegava che tutti gli intellettuali francesi sono felici di essere associati a questo istituto, che ha una sua rilevanza nel settore accademico ed è diventato di fatti un think tank di sinistra. Quindi questo è molto importante. L'altro fattore è che riescono a imporre l'agenda, ma soprattutto un linguaggio e delle parole d'ordine come per esempio pianificazione ecologica, che è un termine che hanno coniato, che hanno portato avanti attraverso questo istituto, che è stato ripreso da Macron in discorsi pubblici e che ci ha costruito addirittura un gruppo di lavoro che fa capo al ministero di qualcosa. E diceva, infatti, non stanno facendo niente. Però il termine è entrato nel linguaggio comune, questa è una cosa che è importante per vari punti egemonia. E j'enviens alla bataille mediatiche. D'ailleurs, bataille mediatiche, on la nomme ainsi dans notre organigramme, dans l'organizzazione della France Insoumise, on a un département che s'appelle... Non, un département, un département che s'appelle bataille mediatiche. In France, come è il caso un po' di più a un po' di più, le media constituono un vero parti mediatico contro il cui il faut anche se battere, perché tutti i media sono detenuti, l'ensemble dei media mainstream, par l'extrême-droite e la droite, o par l'Etat, quindi le macronistro, ce qu'on appelle l'extrême-centro, e influenciano il dibattito. L'extrême-droite, in nostro paio, parviene a introduire dei dibattiti, e a dicter l'agenda politico e mediatico. On ha due esempi, là, récent, pendant la rentrè, on ha avuto una polémica debile su il rappeo Medin, e su l'abaya, il fatto di portare l'abaya o non a l'école, ce che fa l'office di pare-feu, per evitare di parlare dei suoi essenziali, on connaît la strategia. La bataille médiatique è la più dure per noi a mener, perché noi ne siamo mai che invitati in i media mainstream per essere la caution del pluralismo, e in più, abbiamo subito un bashing médiatico constant. Quindi, abbiamo deciso, dopo 2012, di menere questa bataille per l'intermiettire di nostri media. Abbiamo la chaîne YouTube di Jean-Luc Mélenchon, con la famea revue della settimana, che è diventata un incontournabile e che fa delle schifte incroyate per la politica su YouTube. Abbiamo le résello sociale, abbiamo molti di deputati, penso a 15 deputati sui le 75 che abbiamo, che sono deveni dei stars su TikTok, abbiamo l'immagine Populaire, che mi occupa, che è un talk show d'attualità politica, e l'on y reviendra peut-è tutto a l'ora. Abbiamo anche il Mondo in Comun, che è un sito di attualità internazionale e di analisi, che risponde a la teoria di l'era del popolo, che è una teoria fatta da Jean-Luc Mélenchon. Abbiamo anche il nostro canale Telegram, che è un réseo per comunicare, che ci si serve molto. Abbiamo l'insoumission, che è una plateforma multimedia d'attualità di la FI, di un movimento, abbiamo anche dei lutti che sono in cours in Francia. Abbiamo il giornale dell'insoumission, che si occupa Gabriele Amar, che conosce molto bene l'Italia, le sugetto di l'eau, la regia pubblica di l'eau. Abbiamo anche il nostro canale di l'Etat, a alcuni giorni che hanno più di 10 milioni di euro di subvenzioni. Abbiamo anche il nostro canale di risposta di risposta di risposta di risposta di risposta di risposta. C'è il nostro canale di risposta di risposta di risposta di risposta di risposta di risposta. Lui, abbiamo fatto una campagna Electorale, soprattutto le présidentiel, senza remettere senza alégare in question la strategia di risposta. On pensa, par esempio, a dei formati che possono toccare un maximum di persone. Abbiamo anche la nostra corz redirecta e della scola di risposta di risposta. Come abbiamo detto, abbiamo un programma di ruptura con il mondo, quindi non possiamo parlare come lui, d'où il stile insoumi che si inventa e crea. Le nostre idee, la nostra façon di parlare, di parlare e di rilever, permettono di avere una puissance mediatica, e direi anche una puissance contro-mediatica. Allora, invece, prima abbiamo visto la battaglia culturale attraverso l'Istituto La Boisi, invece adesso ci ha parlato della battaglia mediatica. La cosa importante che sottolineava è che per loro è proprio un concetto fondamentale quello di battaglia mediatica, tanto che all'interno dell'organigramma, dell'organizzazione, c'è proprio un reparto, una sezione, un reparto che è intitolato battaglia mediatica, e che riflette su questi temi. Questo perché? Perché, come da noi, c'è il partito mediatico, quindi i grandi interessi industriali che detengono i mezzi di informazione e quindi seguono la propria agenda, e quindi è assolutamente necessario fare un lavoro alternativo. Sottolineava che questi grandi gruppi, al di là degli industriali, fanno capo ad aree che lei definisce estrema destra da una parte e estremo centro, che è quello macronista sostanzialmente. Specialmente l'estrema destra, attraverso i suoi canali di informazione, riesce a dettare l'agenda e, per esempio, recentemente ha fatto delle polemiche assolutamente strumentali intorno alla questione del portare il velo a scuola per le minoranze e intorno a un rapper. Ecco, noi sappiamo che in Italia, parentesi, è uguale quando parla Fedezo, quello che si utilizza per fare distrazione, e quindi loro identificano questa cosa con una strategia di distrazione. anche perché, diceva, anche quando vengono invitati nei programmi televisivi, nei talk show, sono invitati più che altro come quota par condicio, no? Per fare il numero, per il pluralismo tendenzialmente, ma in realtà vengono messi in minoranza e soprattutto poi subiscono un attacco mediatico quotidiano. Quindi, da qui, la decisione di dover creare dei propri canali mediatici. E allora hanno tutta una costruzione. Mi chiedono il trucco di Mélenchon? Il trucco di Mélenchon, la rivista della settimana. Mélenchon ha un suo canale YouTube che si chiama la rivista della settimana in cui ogni settimana prende la parola e dà la sua versione, la sua interpretazione del mondo e quella dell'organizzazione politica sorgiacente. hanno tutti i loro canali social, Telegram, Instagram, più ne metta. Hanno un talk show condotto da Julie su YouTube che si chiama L'Evision Populaire, che è proprio un talk show alternativo, cosa che è molto interessante visto il problema che si diceva prima. Hanno una rivista online che si chiama Le Monde en Comun che è un organo che ha una vocazione internazionale e che cerca di portare avanti quelle battaglie culturali di cui si diceva prima, quindi si saldano le due cose e che risponde a una teoria politica che ha elaborato Jean-Luc Mélenchon che è quella dell'era del popolo. L'era del popolo. Ok. Dopodiché hanno L'Insumission che è una piattaforma invece multimediale di comunicazione e partecipazione che all'interno è il giornale L'Insumission, quindi un prodotto che è diretto da Gabriele Amar, che è anche un esperto in realtà della politica italiana, in particolare del tema dell'acqua pubblica e quant'altro. Quindi cercano attraverso questi canali un legame anche con realtà italiane. Tutto questo senza alcun finanziamento pubblico. Noi ormai è un tema per cui ci siamo abituati anche noi da tempo e anche per loro è un valore e una garanzia di indipendenza da questo punto di vista. Conoscono i limiti, conosciamo i limiti di questo approccio e anche dei social network e quant'altro e pertanto riflettiamo costantemente sulla strategia mediatica. Cioè è un lavoro che non finisce mai, anzi ricomincia ogni volta. Perché? Perché da una parte è necessario ogni volta capire quali sono i messaggi giusti a seconda del momento sia contingente che della tendenza e poi perché c'è una questione di coerenza. Portando avanti un programma di rottura, se viene a mancare la coerenza è problematico. Quindi cercano sempre di rivedere costantemente per essere sempre efficaci e coerenti. E l'ultima cosa che dico che è importante, che ha sottolineato Julie, è che la forma è anche sostanza ed è anche uno strumento che per loro si è rivelato molto potente. E pertanto per contrastare l'egemonia culturale neoliberale, macronista e di estremo centro, loro rifiutano il linguaggio che viene utilizzato da Macron e ne cercano di crearne uno nuovo, creare nuove parole d'ordine che diventano parole d'ordine mobilitanti. E questo ha una sua potenza che loro hanno riscontrato. Ho fatto? Si va. Termine. Applausi. 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 Giando il proiettore sono? Si. Si, si. e ora è il turno di Sergio Grigori red, canna no, canna, red grazie 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 Sono direttore di Furor Televisione, co-fondatore di Canal Red e direttore del programma maquinal Il Tablero in Canal Red. Adesso sono secretario general del Sindicato di Periodisti di Madri e, bene, e da molti anni l'ho intentato dare questa battaglia mediática e ideologica, che credo che è fondamentale, credo che è la principale battaglia che hanno dato la izquierda e le organizzazioni progresistiche, e quali che sienta progresista, se vogliamo trasformare le nostre società, perché le società sono più mediatizzate e richiede di dispositivi culturali con cui dare questa battaglia. Lo primero è un diagnóstico che facciamo le persone del Furor TV e anche le persone che formano il Canal Red, che il principale governo del nostro paese non era il poder politico, che il principale governo del nostro paese era, fondamentalmente, il poder mediatico. E che il poder mediatico è un poder assolutamente diseguale. Cioè, le dalle diretti, con lo meno nel caso espanese, controlano la pràctica totalità dei le comunicazioni hegemóniche del nostro paese. Hai un desequilibrio di forces tremendo nel ambito mediatico del nostro paese, che la istesa posese acaso alcuni medios di comunicazione digitali, scritti … Sì, chiedi un po' 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 Il prognostico che abbiamo fatto in Furor TV e in Canal Red era fondamentalmente questo, che il poder mediattico era un desequilibrio nel poder mediattico e fondamentalmente era dominato per la derecha, per i sectori della derecha del nostro paese, per i sectori delle elites conservadori del nostro paese, incluso in los medios che si facevano presuntamente a izquierdas. Medios di comunicazione che si vendivano come progresisti, erano medios di comunicazione, cuos consejos di administrazione, le linee editoriali stavano dirigiti per gente conservadora, per gente derechista della elite del nostro paese. E questo è il diagnóstico principale per il quale decidiamo che lo fondamental è dare la battaglia nel terreno fondamental, per dare la battaglia, che è il terreno mediattico. Credo che durante tutte le giornate si ha parlato di qualcosa, che non si ha concretato demasiado, che è la pressione che ricevano i periodisti. Un studio della PM cita che il 75% dei periodisti cede a le pressioni e il 57% si autocensura. Queria preguntarci sobre la relazione che existe oggi tra il poder economico fondamentalmente e i periodisti, e come i periodisti possiamo evitare essere establishment e eserci come contrapoder. Io non vedo queste oscure maniobras dietro dei periodisti o del periodismo puramente informativo. Io non lo ho percebito, io non se se già i nostri più veterani in l'etapa della transizione attendiano a alcun tipo. Io non sono capace, io sto dando le vueltas segun stavo yendo la pregunta e parece quasi come una pregunta di la transizione. Io, io, lo qui presenti, non lo abbiamo conosciuto. Io credo che è di altre epoche, io non lo ho conosciuto. Io non lo ho conosciuto, io non se se lo qui presenti... Il studio è del anno 2016 e dice che il 74,8% dei periodisti cede a le pressioni di 2016. Osea, già non di la transizione... Però le pressioni di che? Hai detto il poder economico. Credo che le pressioni può essere tanto di la direzione del medio di comunicazione come... Ah, claro. Efectivamente... Però per questo stanno i directori. È che non crei che, per esempio, e perdonate per la insistencia, quando Telefónica o il Banco Santander hanno accioni nel gruppo Prisa, per esempio, che qui Juan Luis Teoriano ha querito contestare le perguntas, non crei che passano a influire in la linea editorial del medio, in, diciamo, che determinati posizioni dei periodisti se vean condizionati per la propietà sobre il medio di comunicazione? Questo al final sono presioni del poder economico, di una forma o d'altra. È che la linea editorial, che la marca, è il che pone il dinero per avere un medio di comunicazione. Claro. Lo che hai che tener claro è chi manda in un medio di comunicazione. Se tu sai che il duello è Telefónica, diciamo... Telefónica, è Marco Santander. Telefónica, poi sicuramente sepas di antemano che non vai a trovare un'informazione critica con Telefónica. Lo che hai che sapere è di quale è la propietà dei dei medios. Però è... A me, che lavoro in la vanguardia, come presionano al Conde di Godó, sinceramente non lo sé. Per alusioni indiretti, come sempre si parla di chi è dietro del gruppo Prisa, nel cui lavoro, diciamo, quando vuoi, parliamo di tutti, di tutti i medios di comunicazione e di chi è dietro di cada medio. E solo una precisione. Juan Luis Cebriano abbia respondito a tutte le pregunti che le abbiano formulato, però la organizazione ci ha detto che era una disertazione, da la stessa manera che dopo Luis Serrero sarà un'altra e sarà il final e non sta previsto che haia preguntas. Bueno, in questo caso, perdona, credo che... Sì, vale, d'accordo. Io ho ho una domanda. Grazie a tutti. La libertà di pensare tendria a essere algo sagrado e existente in lo che si ha denominato democracias liberali. In questo caso concreto, lo che è stato fatto è che invitarono molti periodisti al Congresso e chi si parlano sono le vieze glorie del periodismo di nostro paese, alcune delle vieze glorie del periodismo in España che si vedono un momento per una domanda parla del poder economico e sobre la influencia che ha il poder economico nei medios di comunicazione españoli. Un diagnóstico che, ademais, loro mesi acabano riconosciendo che, in effetto, che, ovunque, si telefónica è propietà del gruppo Prisa, significa che nel gruppo Prisa non si va a parlare male di telefónica. Lo che occorre è che il gruppo Prisa è il gruppo presuntamente progresista del vostro paese. Ademais, nel gruppo Prisa, in parte del accionariato, sta la teocracia catalì, che non è precisamente una defensora dei nostri diretti. Questo qui, che vi a vedere a continuazione, per farlo semplice per la traduzione, è un editorial del periodo del Paese, anche del gruppo Prisa, in un momento in cui nel nostro paese se barajava la possibilità di che abbia per prima volta un governo di coalizione tra il Partito Socialista, che sarebbe così come il Partito Democratico qui in Italia, e la Izquierda. Osea, una coalizione in cui unidas podemos lo che è la Izquierda e la Izquierda del Partito Socialista che abbia formato parte del governo. Il principale medio della Izquierda, presuntamente, di nostro paese, e su un editorial contra il actual presidente del governo, Pedro Sánchez, leader del Partito Socialista, in cui lo chiamavano insensabile, come era? Non è un diritto che chiamava, sino insensato, sin escrúpulos. E non dupo a non si viva il Partito che con tanto desabierto ha dirigito. Osea, è a dire, hai una critica férrea a Pedro Sánchez, quando il gruppo Prisa ha stato vinculato al Partito Socialista durante toda la sua storia, por intentar formare un governo con la Izquierda. E questo è un editorial in cui insultano al che fosse leader del Partito Socialista. Il diagnóstico che abbia previo in nostro paese al surgimento del Canal Red, e mentre sia existiva il Fundo TV, per lo tanto, era che incluso i mezzi che consumi a la Izquierda, che leía a la Izquierda, erano mezzi dirigiti per il Poder. E erano mezzi non solo dirigiti per il Poder, sino con una influencia che condizionava che la Izquierda sempre perdiera qualche posibilità di transformare il suo Paese in favor di politiche progresistiche e che fornare a tutta la matematica e la emancipazione a la classe trabajadora in nostro Paese. Con este diagnóstico, che credo che tutti entendiamo di lo che sono i medios di comunicazione tanto di Izquierda come di derecha, per lo che non conosciamo, però lo che di Izquierda, presuntamente, devia dirigirsi a audiencias di Izquierda con una vocazione che la sua linea editorial influenciara e i valori della Izquierda potrebbero avere maggior calcio, maggiore cobertura. Quindi, quando io avevo 13 anni, formo, in ese momento io solo, mi dedico a fare intervistasi a Youtube e un po' più tardi, con 15-16 anni, formo un medio di comunicazione che si chiama FUROTV, un medio di comunicazione in cui abbiamo facendo intervistasi a moltitudini di politici, di agenti culturali, eccetera, nel Salon del Piso di Studiante in cui partia Piso junto con altri companiei di professione che avevano interesse anche nel mondo del periodismo. Il Salon, che vediamo qui, è la fotografia del primo plato di televisione che montavamo in questo Piso di Studiante, un gruppo di studiante, in effettiva, che chiamavano dormitantemente da questa battaglia. Sono fotografi, è il embattatore di Cuba a l'España nel momento, e il plato, una messa di madera montata con contaboli di madera e era una cosa molto unica inizialmente. è per dimostrare che non servire molti miei, è a dire, che da questa battaglia al final è abbastanza sencilla e in un inizio con questo che costituimos a l'espares di 16 al 19 di anni. E questo è come la prima campagna di Cadofatti, che ci sono messi a fare la gente donna. Se si le mediano sono subordinati al interesse economico, è necessario che sia la gente comun la che fa periodistica al margen delle grandi maquinarii. Entendiamo che un medio di comunicazione non può essere come una empresa ma che sia a enriquecerse poi il derecho a la informazione sta recogito come un dretto umano. Per tutto l'ello Furoerblog è un medio di comunicazione enfocato nelle cause sociali senza animo di lucro e con una aposta clara per il periodismo comprometito. In Furoerblog funzioniamo mediante gruppi locali di lavoro, responsabili territoriali e una junta administrativa. In la comunità di Madrid e Cataluña troviamo i principali gruppi di affluenza. Toda persona che quiera partecipare può facere mediante 3 cargos in funzione di suo compromiso participante collaboratore o miembro. In questa edizione abbiamo dividito il contenito che ofrecemos in entrevistasi cultura feminismo humor programas in platò e un apartato di redazione enfocato a la investigazione la cronica la cobertura di eventos e la opinion. di La campagna di crowdfunding è un fracaso, è una campagna di crowdfunding in cui non otteniamo i nostri obiettivi. E' un progetto tan humilde, era un progetto molto humilde, con molto poca audienza in suo momento, ma che serve come ante sala per explicare lo che poi ha sido Canal Red, che è un progetto molto più ambicioso, in cui il vicepresidente del governo fu uno dei elementi fondamentali, il principale, con cui constituiamo questa cadena di televisione, che ora già sta in la TVT, in nostro paese, in la Comunità di Madrid, che cada vez crea più, e che è il primo experimento, diciamo, che vuole affrontare al poder mediatico di tu a tu, mirando di fronte al poder mediatico, e non come un progetto che si situa a la izquierda del tablero, e che sia marginal, e solamente si dirige alla gente convencida, che è il errore in cui suele caer, i medios di comunicazione della izquierda con certa frecuencia. Bueno, al... Más adelante, il progetto è stato professionalizzato, fino al punto di che, bueno, facciamo una pelicula documental, che aveva un certo èxito, sul bloqueo economico a Cuba, a Unblock Cuba, e, dopo, in base al èxito che aveva in quel momento la pelicula, decidiamo alquilar un local in Madrid, un local, un gruppo, il mismo gruppo di jovenes. Questo è come la artesana Canarret che lo explica molte cose, no? Bueno, poi, in questi venti e pochi anni, decidiamo anche montare un plato più professionale. Come non c'era dinero, un immobiliario gratuito che si regalava, ose, fu un progetto così, molto humilde. E, chiaro, il punto fondamentale è come arriviamo a Pablo Ilesias, o come Pablo Ilesias decide fare questa constituzione di un progetto molto più ampio. Inizialmente, io ho entrevistato a Pablo Ilesias quando aveva 16 anni, e le ho fatto una entrevista, desde coordenadas, in mio caso, più izquierdista, incluso, di quelle che aveva proprio aveva entonces Pablo Ilesias, e era una entrevista con intenzione di rebatir al che fuere candidato di Podemos in suo momento. Allì noi conosciamo molto giovani, e poi, questa entrevista fu manipulata con i medios di comunicazione di nostro paese. Esa entrevista fuori editata, e in sua edizione si face una difusione malintenzionata della entrevista per fare che Pablo Ilesias pareciera che abbia caito in una contradicione. Fue una manipulazione molto burda, una manipulazione in cui io salì come periodista, che aveva fatto esa entrevista, desmentirlo in redes sociali, e aveva un gran impatto. Lo che passa è che i mezziamenti, in ese momento, pensavano che non íbamos a responder mai, e amenazavano judicialmente a i medios di comunicazione per la difusione di un contenito protegito per diretti d'autore, encima, realizzato con un minor di edad, e manipulando il contenito della entrevista. Togli i medios di comunicazione che diffusero questo avevano fare una rectificazione, e che abonare a FulorTV il dinero corrispondente per l'uso fraudulento di questa entrevista. E questo ha permitito che FulorTV cresciere a più, perché non pagaron i principali medios di comunicazione del establishment la propria puesta in marcha di nostro medio di comunicazione. E oggi, in le redes sociali ha circulato un video che ha anche anche alcuni anni. E già hanno visto voi, Hassel chiamava miserabile a Iglesias, lui rispondia che gli piacciono che abbia leggi per leggi per juzgarle. Iglesias pedia una lega per juzgar a gente come Hassel. Pablo Iglesias pedia una lega per juzgar a gente come Pablo Hassel. Ora Podemos trata precisamente di cambiare la lega che existe per che il inaltecimento del terrorismo o le injurie a la corona non tenere pena, di prisione. E questa tarde Podemos, Partito del Gobierno ha pedito al proprio Gobierno il indulto di Pablo Hassel. E a continuazione immagini precedenti di FulorTV. Compañero Sergio Gregorio in FulorTV. 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 Chiarò conosco per il complotto mediatico policial in cui FulorTV se vio envuerto a principi di 2021, quando i principali medios di comunicazione di tutto il paese utilizzarono nostri entrevisti per manipular le parole del vicepresidente del gobierno della Unione Sovietica. Contiamo con un studio di television con più di 120 m2 e una realizzazione audiovisual che nulla ti ha dovuto envidiar a grandi medios con presupposti inimaginabili per noi. Per poter sapere tutto questo o poter che non ci conosciatevi. Te posso assicurare che il cammino non è stato facile, ma è solo il principio. Sei parte di nostra storia. Acompañanos e dimostremmo che sempre è più rentabile essere honesto che traficare con le nostre menti. Facciamo periodismo. Facciamo televisione. Che niente pensi per noi. La storia è un po' il resumen, il formato video di quello che è passato. Lo che non ho racconta un dettaglio che è importante, è che la entrevista che diffondono i media comunicazione, che ho fatto quando ero minor di edad, era una entrevista che non era pubblica. Era una entrevista che aveva 7 anni, inaccessibile in internet, e che aveva almacenato, las cloacas del Estado, che aveva almacenato per parte di un presunto policia, che poi diffondì, nel momento in cui si encarcelò un rapero in nostro paese, per verità di expresione, per desprestigiar a questo rapero, e per a la vez desprestigiar al proprio Pablo Iglesias, relacionando ambas entrevistasi. Il contexto. Una volta che Pablo Iglesias deixa il governo, non è vicepresidente del governo, è dimite, e quando dimite decide impulsar un medio di comunicazione con il cui vengarsi del poder mediatico, che durante tanto tempo ha perseguito tanto a sua formazione politica, come a gli adversari di questi medios di comunicazione, che è in definitiva la izquierda di nostro paese. E in questo contesto è in cui surge Canal Red, una televisione dirigida e fondata per Pablo Iglesias e co-fondata per il gruppo di Furor TV, che siamo noi, a qui ci siamo noi, a qui ci siamo avanti a questo progetto di televisione di izquierda. Quando sales a la calle, quando parli con i amici o quando miras il Parlamento, ti dà cuenta di che hai gente che pensa e che vota di formas molto differenti. Sin embargo, quando inciendis la television o la radio, resulta che tutte dicono basicamente lo stesso. La pluralità della società non se corrisponde con il monopolio che la derecha impone sui grandi medios di comunicazione. In le ultime décadas, i movimenti popolari e di izquierda, le donne, le donne, le donne, i d'abatto, hanno lograto cambiare molte cose. Hanno cambiato parlamenti, i governi e anche la forma di pensare di molta gente. Però sempre ha habito il mismo limite. Non abbiamo lograto transformare il poder mediatico. E' demasiado burro. Un gruppo di companheiras e companheiros abbiamo deciso di unirnos per fare qualcosa molto concreto. Alguni abbiamo molto tempo participando in proieti di comunicazione piccoli e humildi, e siamo molto orgullosi. Però come rapeava a Nega, de los Chicos del Maiz, siamo cansati di tirare piedras. Queremo un tanque. Non queremos essere subalterni. Queremo competire con la derecha mediática. Queremo avere buoni equipi tècnici e humanos che nos permitano ofrecer una programazione di qualità che il mondo possa vedere e ascoltare. Per farelo, che niente lo dure, abbiamo bisogno di alcance e privati. Però sappiamo che trattandosi di noi questo non va a bastare. Il tamaio, la forza, la independenza e il alcance di questo progetto vanno a depender di, di lo che potete apportare voi e voi. In che andiamo? Abbiamo preparato il lanciamento molto pronto di un nuovo canal audiovisual del siglo XXI. Un canal di televisione per internet. Canal Red. E per farelo necessitiamo vostra aiuto. Quiere seguire viendonos crecer? Pues già sai. Grazie. C'avevamo la sinistra più potente di tutto l'occidente. Cazzo siamo messi. Questi vengono a dire le robe di fantascienza. Date a casa vostra. Allora, no, la cosa che mi interessava appunto, insomma, sono due progetti abbastanza diversi, insomma, però entrambi, insomma, sono organici. a un progetto politico è una caratteristica che appunto, come accennavo prima, è un po' diversa dalla nostra situazione. Però io, tra l'altro, sentendo parlare loro, penso ci sia un po' di differenza su anche le sfide dal punto di vista del linguaggio e della comunicazione che, secondo me, almeno, ci troviamo di fronte a noi qua rispetto a loro. Nel senso, che loro comunque credo fanno un po' meno fatica di noi a definire il loro progetto e anche avere, diciamo, a non essere per questo bullizzati nella pubblica piazza a definire il loro progetto esplicitamente e in qualche modo anche in modo innovativo e tutto quanto, però di sinistra, no? Che invece pensa sia una cosa, già una differenza rispetto all'Italia? Cioè, io penso che ad esempio un progetto mediatico che mira queste dimensioni qua in Italia che si dice di sinistra secondo me proprio non può esistere, sostanzialmente non c'è, proprio non può esistere, ecco, sostanzialmente. Quindi, la prima domanda che io gli chiedo, però siccome, insomma, il provino meno dell'alt-right, prima ne abbiamo parlato con lei, insomma, non è esclusivo nostro, sentivo anche prima che c'era giù un ragazzo che parlava in inglese e nei panel di sotto che appunto parlava del vantaggio, diciamo, proprio un po' sistemico, no? dell'alt-right nel senso di capacità. Eh, sì, lui, 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 colpa tua, dov'eri? E quindi, la prima domanda che volevo fare a loro, che è una domanda che mi interessa proprio, una riflessione che cerchiamo di fare noi e a cui non abbiamo ancora risposta, è, dal punto di vista, appunto, c'è, diciamo, l'alt-right sembra avere una molto, almeno questa è la situazione italiana, bisogna capire un po' cosa cambia rispetto alla Francia e alla Spagna e secondo me ci sono delle differenze abbastanza significative. Però, infatti, se non mi capite traducetelelo, nel senso che da noi sembra parecchio evidente che il linguaggio dell'alt-right sia sostanzialmente l'unico linguaggio che riesce a raggiungere il popolo degli esclusi dalla politica mainstream, no? Cioè, tutto quello che è fuori, il 40% abbondante che non vota, si riconosce in quel tipo di linguaggio. E quindi la domanda che noi ci facciamo è che rapporto avere con quel linguaggio lì? La risposta tradizionale della sinistra è avere un altro linguaggio completamente. Il problema nostro è che una sinistra è in grado di parlare con quel 40% delle periferie che non va a votare in Italia oggi non c'è. Non c'è culturalmente, non c'è organizzativamente, non c'è, non c'è, è inutile di cazzare. C'è qualcuno ogni tanto che dice no ma io faccio... Cazzate, non c'è e basta. E quindi diciamo la domanda che uno si fa è cosa cioè ad esempio noi come Ottolina TV diciamo ogni tanto coniamo rubiamo scimmiottiamo termini e anche categorie dell'alt-right all'interno di un contesto dove portiamo avanti un discorso completamente diverso. E volevo capire un attimo questa cosa se hanno riflettuto su questa cosa qua cioè qual è il limite no? Per cui ti dici appunto ci sono state anche polemiche sulle nostre chat eccetera ma te facendo così sostanzialmente riconosci l'egemonia dell'alt-right e io gli ho risposto sì non è che io la riconosco se te non riconosci che l'alt-right è egemonica nelle periferie delle città italiane se non mette vivi in un altro paese cioè non è che io la riconosco è una realtà se vuoi si fa si fa un sondaggio e ti dimostro che non è che è una mia idea è così e quindi dico io cerco invece di dire a quelle persone come faresti te che sono degli idioti non hanno capito non hanno letto Gramsci non hanno li dico sì è vero quella parola che usi ad esempio facevo l'esempio prima da noi un termine che usiamo sempre noi è sinistra delle ZTL no? anche antifascismo delle ZTL no? facendo una critica a questa sinistra liberale che sinistra magari su alcune cose un po' anche alcune condivisibili però insomma che rimangano che non toccano la struttura del potere del rapporto tra capitale e lavoro e però è un termine inventato dall'alt-right e quindi noi però lo usiamo lo usiamo perché io con quella persona che ha imparato dalla sua esperienza concreta a odiare la sinistra delle ZTL l'antifascismo delle ZTL io non le voglio dire sì però la tua ricetta non mi voglio approcciare dicendo sì però la tua ricetta è sbagliata sì però te dovevi andare un po' più a scuola sì però perché la tua mamma non è un professore voglio andare lì e dirgli sì hai ragione a me quanto a te mi fa schifo la sinistra del ZTL l'antifascismo del ZTL quindi io ti ascolto capisco le tue stanze ti dico l'analisi che faccio io delle cose che ti succedono che è diversa da quella che senti tutti gli altri canali che hanno inventato quel termine quindi la domanda che hai capito la domanda che io voglio capire fino a che punto si può adottare anche cedere prendere io dico prendere consapevolezza di però magari mi sbaglio alcuni dicano eccedere all'egemonia dell'alt-right se mantenendo la capacità di fare un discorso poi di portare un'analisi eccetera fare un discorso completamente diverso la destra alternativa la destra no quella la destra che si pone come antisistema no non la destra spero che con le traduzioni si riescano tra l'altro secondo me è interessante chiederle a loro due faccio un inciso mentre cercano di spiegarvi cosa ho detto che probabilmente non l'ho capito nemmeno io perché comunque sono entrambe esperienze che hanno fatto i conti con la questione populista no come insomma come da noi hanno fatto i cinque spazio vabbè non è che ora vi devo fare la storia politica di tutte anche perché non la so però insomma è interessante perché questo problema in qualche modo loro se lo sono posto assolutamente però attenzione a questa cosa qua io ora sembro ottolina tv centrico però vi parli perché faccio altro nella vita quindi sono solo quello sono solo cosa è ottolina però ad esempio noi non è che edulcoriamo i concetti anzi è proprio lì siccome noi non vogliamo edulcorare i concetti siccome noi non vogliamo chiamare l'imperialismo la mancanza di coerenza con i principi che esprimono nei concetti internazionali ma lo chiamiamo suprematismo bianco e io lo voglio chiamare suprematismo bianco per me si chiama così non voglio dover dire no però insomma allora però siccome io ti dico una cosa e come suggerisce lui io sono un fan di melanchon quindi so più o meno come si comporta siccome te la voglio dire proprio in quel modo lì e dirtela in quel modo lì mi mette in un ghetto ok allora io ti dico io te la dico in quel modo lì per uscire da quel ghetto però ti parlo anche con i termini che te riconosci come tuoi e che secondo me sono non è che non ne comprendo la il rischio dell'utilizzo di quei termini lì comprendo benissimo da dove vengono comprendo benissimo che presuppongano una semplificazione anche in qualche modo un'operazione di distrazione in qualche modo però diciamo il compromesso che secondo me è necessario per venire a parlare con te senza far finta di essere un'altra cosa io ti dico le mie robe con le parole precise che dicevamo però non ho paura allora lo metto come diciamo accetto di fare mio un linguaggio che ha una matrice molto diversa quindi subire passivamente per un pezzo l'egemonia altrui per provare a fare un racconto controegemonico sostanzialmente ok allora che ci sono il mensonge. E in fatto c'était compliqué per noi, è che in tre mots, hanno detto tutte le loro verità, che sia l'extrême droite o le macronistri. E noi il nos faut il double de temps per tutto dimontare e per dire il contrario car il s'agit per noi di d'abord tutto dimontare per in più, dopo, di explico il nostro risonamento. Si posa allora la question, comment comunicare, e c'è per questo che mi ha fatto pensare a ça, e c'è stato un po' hors-sujet su questa question, ma come comunicare in un mondo di post-verità? E l'extrême droite participe, di questa forma di fare. E c'è là che è la nostra tâche, perché noi la complexità di nostri idee, c'è la sincérità di nostri idee. Quindi io credo che n'y'a pas in france in tutto caso un espace di mélange tra le langage di l'extrême droite e il langage di noi, la gauche, che portiamo un progetto radicale. Ma l'arco, effettivamente, on va per lutter sulle le résello social contro le immagini molto forte e molto semplice che convoca l'extrême dei possibili. Non, c'è efficace, c'è chiaro. poi, per rinno sull'extrême droite, se prende le résello social, tu vissi di dire d'abord? Non, non, non. Ok, già noi, il faut lutter contro gli algoritmi, che è molto difficile, e abbiamo, per esempio, una strategia ben definita, secondo tutti i rései sociali. Twitter, per esempio, vive il harcèlement politico, religio, eccetera, e quindi l'extrême-droite se nourrì dei effetti che promette questo réseau social. Noi, nostra strategia è di essere presenti tutto il tempo, su tutti i rései sociali, contro l'extrême-droite, contro l'extrême-centre, e non ne ricorda mai davanti una luce e davanti del fatto di dirviare un risonamento. Allora, ho pensato a molte cose mentre parlava Giuliano, perché ci sono tanti esempi. Perché io ispiro, ispiro. Tu ispiri, ispiri da sempre. Ripetisce che la comunicazione politica che fanno loro si basa sulla corrispondenza tra forma e contenuto per una questione di chiarezza, per una questione di credibilità, e perché già solo fare questo contrasta con il linguaggio dell'extrema-destra e dell'estremo centro. Perché loro mentono continuamente, arrivano a dire, lei parla in particolare del... Faccio una parentesi perché la situazione è un po' diversa ovviamente, lì hanno un'estrema-destra forte, parlamentarizzata, che quindi veicola già un popolo, mentre quello che diceva Giuliano, credo, è il fatto che noi abbiamo tutto un popolo che è nel non voto, che è nello scontento, che è nella controinformazione, e quel popolo se lo contendono, l'extrema-destra e l'extrema-sinistra, quindi c'è un problema di utilizzare quali linguaggi, insomma, comunque poi adesso ci arrivano loro più di quello che posso fare io. Detto ciò, appunto, Macron mente sempre, un po' come qui sulla crescita, lui l'inflazione è a nostre spalle, nelle scuole non manca nemmeno un professore, cioè arriva a raccontare appunto quello che è la post-verità, di cui poi vengono accusati gli altri ovviamente, però è la loro, diciamo, la post-verità. E dice, ovviamente questo pone un problema, nel senso che ti serve, loro in tre parole hanno costruito un universo di senso, menzognero, e a loro ci vuole il doppio del tempo per smentirlo, decostruirlo, e poi ricostruire invece quello che è l'altra architettura narrativa, l'altra interpretazione del mondo, basata su quello che ritengono essere la verità. Ecco, quindi serve tanto tempo per fare questo lavoro. Sottolineava che in Francia, appunto, non c'è questo problema di contendersi il linguaggio per descrivere la stessa cosa tra l'estrema destra e la sinistra melancionista, e la france insumise e l'UVS a salire, proprio perché evidentemente parlano già linguaggi differenti da questo punto di vista. Quello che però fanno è che cercano di contrastare le immagini, quindi c'è sempre riguardo a quello che si diceva nella prima parte, in cui loro hanno un lavoro sulla comunicazione costante, di riflessione, loro cercano di contrastare le immagini e trovare nuovi slogan, nuove parole mobilitanti, nuove anche le proprie immagini che possano contrastare nella stessa maniera diciamo rapida nell'interpretazione immediata la propaganda di fatti dell'estrema destra e dell'estremo centro, come lo definiscono. Per quanto riguarda la destra, effettivamente riscontrano il fatto che, come ci diceva tra l'altro Rodrigo Nunes oggi, che i social e alcuni social in particolare favoriscono il linguaggio dell'estrema destra. Lei citava come esempio Twitter, che ha una comunicazione molto aggressiva, in cui c'è proprio un clima di di legge quando va bene, se non proprio poi di aggressione politica, e non solo poi di religiosa e tutto quanto, però limitiamoci a questo per adesso, e però loro non vogliono tirarsi indietro, quindi cercano di fare quel lavoro di decostruzione e ricostruzione laddove la destra invece cerca di semplificare e lavorare appunto su questi bias cognitivi di conferma. Ecco, questo è il risultato. Scusa, domanda per capire, perché da noi Twitter, ora con Musk sta cambiando, però Twitter era proprio l'impero del liberale, cioè non esisteva, da Twitter italiano mi sembra, smentitemi, insomma, però la mia impressione è sempre, no? Andriano? No, 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 sì, in parte sì, ma è venuto nella nostra realtà Twitter, diciamo, è una cosa più umana molto... Beh, è molto, cioè nel senso Twitter è Jacoboni, Angrisani, è quella roba lì, cioè nel senso... Sì, 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 è vero, Francia sanno leggi, anche, ok, interessante. E il diserchio inizialista è soprattutto l'extremi sensi, quindi è libero, non l'extremi sensi. Ah, sì, non sapevo. Tu puoi continuare? Vai, vai. Ok. Lì c'è l'estrema destra, su Twitter, lavora su Twitter l'estrema destra, dalla loro con casa. Eh, no, non è che sono un gran conoscitore, però mi sembrava davvero... No, no, è liberale. È quella che lasciamo da parte. Noi, sì. Sì, loro hanno tutte e due, hanno il pizio del parlamentarizzato ed è incrostato, non è come noi, hanno l'estremo centro, come lo chiamano, è l'estrema destra. Noi solo l'estremo centro. Noi, per rispondere a la question, ho voglio di partire su a qui noi abbiamo chiesto di noi adorare in priorità. Allora, noi, la nostra forza, è che abbiamo fatto dei score quasi identiche in tutte le catàgorie sociale, sape le classi superiori e le retrati. Ma che le jeunes... Identiche a chi? Identiche a tutte le classi sociale. La France insoumise in tutte le classi sape le riche e le retrati. E on è 1er chez le jeunes de 18 a 34 ans. On è 1er per la classe moyenne, quindi le prof, le profession intermédiaire, le intellettuale. E on è 1er dans le outre-mer. Si chaque persona vota autant che le riche e le retrati, on serait elu del 1er tour. non, 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 Du coup, nous avons plusieurs objectifs de conquête. On a les retraités et les classes populaires rurales qui sont très dispersées, mais qui rencontrent les mêmes problématiques d'accès aux services publics, de vie digne et d'augmentation de salaire. Et on a un appui très puissant, surtout depuis 2022, c'est les jeunes. Mais le point faible, c'est que les jeunes et les classes populaires sont les catégories qui s'abstiennent le pouce. Donc nous, dans notre communication politique, on doit prendre absolument le contre-pied de ce que font les libéraux et les fachos. Parce qu'il ne faut pas être dégoûtant. Il ne faut pas qu'on soit dégoûtant. Macron, par exemple, lui, c'est une stratégie de dégoûter les gens parce que l'abstention vote Macron. Nous, on se montre clair, pragmatique et on défend nos dégoûts que coûtent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sans avoir peur des mots et de notre langage avec le verbe « o ». Per rispondere alla domanda invece precedente, Julie ci spiega che sostanzialmente loro fanno un lavoro molto chiaro sul target a cui scelgono di rivolgersi. Quello che bisogna capire per comprendere quella che è la loro scelta è che loro già adesso fanno score elettorali identici sostanzialmente in tutte le classi sociali, professionali tranne tra gli anziani e i ricchi sostanzialmente. Tecnicamente sono i primi tra tutto il mondo dell'insegnamento cioè i primi tra gli under 35 i primi anche nei territori d'oltre mare cioè se votassero sostanzialmente di più questi e di meno gli altri sarebbero già eletti al primo giro senza dover passare al secondo turno primo turno secondo turno quindi il problema qual è che hanno davanti è quello dell'astenzione cioè i giovani e i ceti più popolari rurali non decidi non decidi no per favore ok niente quindi il popolo più rurale e i giovani in realtà sono abbastanza disgustati dalla politica e tendono ad avere un'astenzione più alta e dice il campo di battaglia è questo quello dell'astenzione come tra l'altro anche da noi e individuano loro molto chiaramente la strategia di Macron e dell'estremo centro come si diceva prima di essere volutamente sempre più disgustare l'elettore sia nel c'è dei linguaggi nel c'è politica fare un nuovo banner sa что le retratore guardano la tv hanno meno le riso social e per parlare ai jeunes non bisogna adottare l'extrême droite perché i giovani sono interessati per la crisi climatica, per l'igualità di genre, per il feminismo. E sono dei suoi suoi che laissono di l'extrame-droite in Francia, anche se l'extrame-droite comincia a parlare l'articolo. Quindi, a falluto anche che l'on adopte la strategia di comunicazione. Un'altra cosa, la FI insoumise ha una presenza di terra enorme, che non ha l'extrame-droite. Par esempio, noi siamo organizzati con un maillage territoriale grazie a i nostri gruppi d'action. La FI insoumise ha due socle, i gruppi d'action, riparti sulla totalità del territorio e la rappresentazione nazionale, che sono in dialogo constanti. C'è anche impressionante, d'ailleurs, e anche unico. Quindi, abbiamo il nostro solo politico presente, e abbiamo anche un'applicazione che si chiama Action Populaire, che è il réseo sociale d'action di la FI insoumise. On può tracciare l'applicazione, e abbiamo un gruppo d'action a pranzo di loro, e abbiamo partecipato a dei colleghi, abbiamo di maniera quotidiana, per esempio dei colleghi solidari per le fourniture scolari, o per le denriche alimentare, e soprattutto in questi tempi di inflazione. E abbiamo anche un'applicazione di implementazione territoriale. Quindi, abbiamo cercato dei locai per noi installi e per avere Pignon sulle rue partout in Francia. E abbiamo in priorità gli andati dove l'extrême-droite è forte. E abbiamo abbiamo il nostro primo locale a Perpignan, lì c'è un deputato d'extrême-droite che è lì a l'Assemblea, e lì c'è un'extrême-droite che fa dei scores incredibili. Quindi noi, l'idea è di avere Pignon sulle rue per che le persone puissano venire e parlare di loro problematiche e per se rejoindre in un gruppo d'action. Quindi, ciò, abbiamo continuato. è davvero una realtà molto diversa dalla nostra. Sì, sì. Allora, quindi loro abbiamo detto che hanno due obiettivi che è quello di attrarre i pensionati e i giovani. Per i pensionati, nonostante loro abbiano costruito il loro sistema mediatico di riferimento con cui raggiungono molte persone, per raggiungere i pensionati continuano ad andare in televisione nonostante vengano trattati male e quant'altro perché bisogna presidiare quello spazio per arrivare a quei pubblici. Per i giovani, diceva, rispondendo alla tua domanda, non c'è bisogno di andare a andare a prendere i linguaggi dell'estrema destra perché in realtà il pubblico giovane francese è interessato ad altri temi che la destra proprio non presidia, anzi rifugge o critica direttamente che sono le questioni di genere, il clima, il femminismo e quant'altro. Diceva, occhio però, perché non è che sono tutti scemi, infatti hanno cominciato a parlare di clima adesso, quindi bisognerà capire come muoversi su quella competizione, la competizione su quel fronte lì. L'altro elemento fondamentale che è quello che dicevo che era differente rispetto a noi è che loro hanno lavorato sul radicamento territoriale tantissimo, loro hanno sul territorio dei gruppi di azione dappertutto e sono gli unici in Francia da avere questo radicamento territoriale e sostanzialmente si basa su due gambe, questi gruppi di azione territoriali, popolari, eccetera, e la rappresentazione nazionale e parlamentare. Queste due realtà sono in contatto costante ed è una cosa su cui loro puntano tantissimo. Dopodiché hanno anche un'app di attivazione popolare che si chiama azione popolare che per noi richiama calenda, ma non c'entra niente. Calenda si è... che spero, no. Ok. Il compagno. Sì, il compagno che... e quindi l'obiettivo è appunto di attivare la popolazione su problemi locali, come se fossero comitati di azione, però ovviamente con un coordinamento. Attraverso questa app le persone si possono ritrovare, eccetera, e qui non leggo più che cosa ho scritto. Ecco, loro stanno facendo un lavoro in cui cercano costantemente di adesso avere... cioè questi gruppi qui, a differenza magari dei circoli del PD, che sono dei circoli con la sede, eccetera, loro non hanno sedi. Cioè questi gruppi sono... non so come sono. Adesso poi glielo chiedo. No, non voglio chiamare. Però ecco, adesso stanno aprendo delle sedi e in particolare cercano di andare ad aprire delle sedi territoriali per essere sulla strada e poter essere davvero degli interlocutori nella vita quotidiana dei problemi delle persone e cercano di farlo direttamente nei feudi dell'estrima destra. E adesso citava appunto Perpignan che è uno dei feudi dell'estrima destra. Le faccio la domanda e se rispondo. Donc, comment sono organizzati le gruppo d'action? Qu'il n'y a ancora di tutto il gruppo? Ah, c'è sull'appli e in fait tu crei ton gruppo d'action e tu le trovii in dei cafè o... Ok. Uteria. Uteria, si. Quindi l'applicazione che hanno permette l'auto-organizzazione di questi gruppi d'azione che come analogia io direi che somiglia a Meetup dei 5 Stelle dell'inizio solo che non è un'applicazione esterna ma è un'applicazione sviluppata da loro e quindi c'è già un contatto diretto con il partito. Ecco, questo è il gruppo. Yes. Finito? Oui. Ma qua. Estremamente sintetizzato. Rifaccio la domanda sintetizzata perché come sempre io penso adesso voglio fare la televisione ma mi sapisco un cazzo quando parlo. In estrema sintesi è quanto dobbiamo, quanto siamo costretti o quanto invece ci dobbiamo rifiutare di appropriarci, provare ad appropriarci di un pezzo di linguaggio dell'alt-right per arrivare nella per noi ora poi ci dirai qual è l'obiettivo vostro dove dovete arrivare però immagino comunque ci sarà come c'è anche in Francia no? Un astensionismo delle periferie insomma tutti quelli che non sono rappresentati dalla politica istituzionale tradizionale in qualche modo. Voi parlare più come periodista che come miembro perché in mio caso non pertenevo a nessun partito e non faccio un'analisi di una vertiente partidista in questo caso io non participo ni sono parte di nessun partito per supuesto voto e ovviamente creo che le organizzazioni politiche della izquierda sono fondamentali però non faccio un diagnostico desde una parte partidista in questo senso credo che uno dei problemi principali nel caso con il auge della ultraderezza discursivo ha sido come durante molto tempo in nostro paese la risposta a la crisi tanto economica come social che aveva in nostro paese non aveva una salida ultraderechista sino che aveva una salida izquierdista tras il movimento 15M che fu la consecuencia della crisi economica del anno 2008 se canalizzò socialmente la risposta in termini progresista e non in termini conservatori o ultraderechista come passano in altre latitudini europei in nostro caso particolare se logrò formare una formazione politica nel caso del Podemos che canalizzò diciamo tutto il descontento social da una perspectiva progresista e izquierdista creíamos erroneo per parte nostra che stavamo vacunados del fascismo e fuimos igienos en ese sentido en el caso particularmente español tras passare 40 anni di dictadura creíamos che había una pulsione democratizadora en las nuove generazioni de hecho todo il auge de Podemos o de la izquierda alternativa e la ruptura del bipartidismo nos hizo creer que era incluso aunque no se hubiera conseguido el gobierno en un inicio era inviable que la ultraderecha pudiera ocupar el espacio sociológico que había ocupado la izquierda nuestro principal error fue morir de éxito y es el principal error que creo que tiene la izquierda en el caso particular español estamos ahora gestionando esa muerte de éxito y lo que está ocurriendo es que fundamentalmente en la gente joven la extrema derecha cada vez tiene mayor y mayor y mayor presencia y esto tiene que ver y se da respuesta no solo por el poder mediático sino fundamentalmente en el caso particular español por las redes sociales y por la penetración de nuevos actores culturales en las redes sociales es decir los medios de comunicación sentaron las bases culturales que luego aprovecharon otros generadores de opinión es decir problematizar la inmigración en España es un caso muy extraño porque la sociedad española incluso la sociedad digamos más escolar de la derecha no tiene un problema con la inmigración en España no lo hay es un problema que además por una cuestión incluso porcentual de la cantidad de inmigración que hay en nuestro país no genera un rechazo social mayoritario en absoluto y sin embargo hay una construcción literaria que se ha hecho desde hace muy poco en torno a los menores no acompañados extranjeros a los menas deshumanizándoles desposeyéndoles de su personalidad como seres humanos es decir convirtiéndoles en un nuevo sujeto y esto lo ha generado los medios de comunicación pero siempre desde una apariencia democrática es decir los medios de comunicación de nuestro país aunque son eminentemente conservadores no son ultraderechistas los actores que han construido y alimentado el monstruo de la ultraderecha los principales gracias a que efectivamente aprovecharon todo el relato previo que construyan los medios hegemónicos son los medios digitales y hoy la gente joven fundamentalmente la gente joven que vota a partidos y organizaciones ultraderechistas como es el caso de Vox que hoy es la tercera fuerza política de nuestro país sustituyendo a la izquierda en esa posición uno de sus grandes éxitos ha sido conectar con la gente joven algo que en España creíamos los jóvenes y las gentes mayores que los jóvenes iban a ser siempre inminentemente progresistas yo cuando empecé a politizarme me era muy difícil encontrarme no a gente de ultraderecha a gente que se sintiera cómoda identificándose como de derecha era muy difícil teníamos ganada esa batalla y ahora ha cambiado radicalmente ¿por qué? culpa vos sí culpa vos efectivamente porque a toda acción una reacción de igual magnitud o mayor y hubo una acción social joven con el 15M y después con el auge del feminismo que fue tan tremenda y que no se supo canalizar del todo bien a nivel político que se desbordó y la extrema derecha donde no estás tú donde no ocupas tú un espacio y lo ocupan por ti y luego el feminismo lo que consiguió también de alguna forma es dotar a las mujeres de una respuesta por sus problemáticas propias pero los hombres jóvenes se sintieron agraviados absurdamente pero se sintieron como atacados y sin una respuesta propia que satisfaciera sus propias inquietudes de género en muchos sentidos y vieron como las mujeres de su clase por ejemplo en el caso estudiantil en el caso educacional bueno pues empezaban a empoderarse empezaban a hacerse preguntas y ellos no tenían algo a lo que agarrarse para responder a sus miedos y eso es tremendo y es una explicación también de cómo la ultraderecha ha penetrado culturalmente en la gente joven en nuestro país en el caso particularmente español hay una incertidumbre total en la gente joven y la gente mayor que vota a la ultraderecha es que nuestra ultraderecha es particularmente diferente a otras ultraderechas no se puede comparar la ultraderecha española con la ultraderecha francesa o con la ultraderecha italiana o con otros tipos de ultraderecha es una escisión del partido popular es una escisión de la democracia cristiana o sea nuestra ultraderecha no es una ultraderecha quindi es una cosa del nuestro partido comunque una corrente del nuestro partido sí no es una quello que fundiamo ahora domattina domani c'è la reunión domani a nivel a nivel a nivel digamos autonómico va a impedir que haya un gobierno de derecha y ultraderecha en nuestro país y ya pensábamos que iba a gobernar la ultraderecha o sea toda la izquierda teníamos asumido que la ultraderecha iba a entrar al gobierno en estas últimas elecciones se estaba completamente asumido el discurso era de rearmarnos de lo que toca ahora es volver a las trincheras y asumir que la década progresista bueno pues es una quimera se ha perdido ahora toca un nuevo ciclo conservador y ultraconservador con la ultraderecha recuperando el gobierno de nuestro país desde la dictadura de Franco lo teníamos completamente asumido y la realidad ha sido tozuda gracias a bueno pues a entre otros papeles el que ha tomado la socialdemocracia quien ha problematizado entre otras cuestiones el poder mediático el presidente del gobierno no afina a mi ideológicamente no precisamente un gran izquierdista ha problematizado la cuestión del poder mediático acudiendo a tertulias de televisión hablando de la desigualdad que existe en torno a la fuerza y correlación mediática de la derecha y de la izquierda no ha sido un éxito nuestro si se ha impedido el auge de la ultraderecha en nuestro país no ha sido un éxito de la izquierda ha sido un éxito de la socialdemocracia del socioliberalismo del extremo centro por una parte que ha camuflado en cierta lógica un discurso con un aura más izquierdista pero no real es un izquierdismo interesado para repetir el gobierno lo que pasa es que esta correlación de debilidades ha favorecido que se vuelva a repetir seguramente el gobierno gracias insisto a la cuestión plurinacional de nuestro país a que hay latitudes de nuestro país con las que la derecha nunca va a poder conectar aliada a la ultraderecha Cataluña es fundamental y Cataluña es la clave de la repetición progresista de nuestro país es imposible que gobierne la derecha y la ultraderecha en nuestro país si no se reconcilia con las fuerzas soberanistas catalanas que ahora son aliadas de la izquierda en caso de una repetición de gobierno progresista como siempre ok allora gracias allora se no ci si fa avrei altre 27 domande da farle ma insomma li chiamo domani per il telefono e invece tre domande dal pubblico so che c'è già chi si è raccomandato con Gian Domenico pagando una tangente per poter intervenire in questo prestigioso consenso e direi fatele tutte e tre di fila e poi li facciamo rispondere a tutte e tre di fila ok guarda forse no è meglio che prima quello quello che ha Sergio ma che hai visto eh si io volevo fare questa domanda da quello che avete detto mi pare di capire che comunque una variabile importante in questa battaglia mediatica che svolgere anche se non l'avete detto esplicitamente è comunque il fatto che esistano delle organizzazioni politiche che rispetto a quelle italiane hanno del successo hanno avuto o hanno ancora successo cioè contano qualcosa nella società noi ci troviamo in una situazione diversa per cui per esempio ehm c'è la compagnia della Franza al Sunnise prima ha detto che loro si sono tirati fuori o perlomeno non del tutto però si sono dovuti tirare fuori dei mezzi di comunicazione classici tipo la televisione perché venivano diciamo attaccati e quindi le loro posizioni erano strumentalizzate e questo veniva fuori anche un po' dal discorso del compagno spagnolo un problema dice che noi non abbiamo visto che non esistiamo in televisione o tra liamo la domanda che faccio è questa in una situazione in cui noi invece non abbiamo alcun accesso a questi mezzi di comunicazione c'è un modo per accedervi e vi faccio questa domanda magari chiedendovi se all'inizio delle esperienze e delle formazioni politiche a lei lo posso chiedere direttamente perché della Franza è insumiso cioè all'inizio come siete riusciti a sfondare il muro mediatico diciamo dei grandi mezzi di comunicazione e quindi se in qualche modo vi siete sporcati a fare non lo so avete mandato uno sgarbi non so come io traduzzo i sgarbi però insomma uno sgarbi da sinistra oppure hanno cominciato a parlare di calcio cioè come in che modo siete riusciti a entrare nei mezzi di comunicazione di massa prima di decidere giustamente di defilarsi perché chiaramente li vi facciamo il culo grazie molto interessante ah sì 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 questa secondo me è per lei perché è inutile che rispondano a tutte tutte sono capace di rompere un po' il muro allora la mia non è tanta domanda ma un'osservazione avendo io con altre persone provato anche a fare giornalismo da molto giovani quindi insomma appena perché perché questa cosa terribile non provate affatto appena poco ventenni cioè mi rendo conto che mi sembra strano che si possa ottenere tutto questo successo tutto questo interesse cioè è impossibile in Italia non so se forse è stato il mio progetto il nostro progetto che ha spagliato qualcosa rispetto invece al progetto di cui è stato spostato prima oppure se è un sistema anche diverso cioè il sistema spagnolo è diverso oggettivamente dal sistema italiano consente il sistema italiano ai giovani di proporre davvero qualcosa di nuovo è possibile questo non so la mia risposta è negativa però magari mi sbaglio vieni Andrea Andrea questa la facciamo per lui che è in città no no la mia ragazza è in realtà ha chiesto una roba dell'Italia cosa ha risposto io non è una domanda un'osservazione sì 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 vai vai no anche io non ho un'osservazione ma andai rompete i coglioni no nel senso che è veramente difficile avevo in mente diverse domande che mi sembravano molto intelligenti prima che iniziasse tutto quanto poi adesso mi sembrano tutte un po' fuori contesto nel senso una era quella che in parte hai fatto tu che su quale forse noi in Italia si interioriamo molto ma in Francia e in Spagna mi pare di capire che non sia così puntuale nel senso che o sono già una fase di forza politica organizzazione politica tale dove ci si preoccupa di contendere voto per voto per prendere il potere piuttosto che di andare più di tanto su quella fascia non politicizzata resa analfabeta della politica quindi dovendo rendere molto elementare il linguaggio che è quello di cui parliamo noi oggi poi dopo mi pare che questa fase sia un po' superata molto diversa per cui ecco è anche difficile fare delle analogie positivamente perché anche venendo alla domanda che c'è la ragazzola probabilmente tutte le possibilità che si hanno in Francia e in Spagna partono da un quadro politico che è radicalmente diverso cioè con una sinistra radicale chiamiamola come vogliamo forte con una propria organizzazione e che evidentemente non ha perso del tutto l'egemonia o quantomeno può combattere voto su voto accettando il fatto che c'è una fascia di impolazione che rimane un po' fuori dalla comunicazione per cui vabbè comunque volendo una parte di domanda è questa cioè se hanno delle strategie specie anche nell'esperienza francese che mi pare veramente su come andare a intervenire su tutti i vari fasci di popolazione senza una strategia precisa per andare in quelle fasce di centri popolari nelle periferie nei quartieri popolari che credo anche in Francia e in Spagna come in Italia come in ogni paese neoliberale sono state sottoposte scientemente a un processo di imbarbarimento anche rendendo veramente il linguaggio e poi ovviamente anche le fasce più di contestazione spesso hanno cercato la soluzione più semplice nella xenofobia piuttosto che però Andrea le ho già fatta io sta domanda no vabbè però lavori fa se hanno dei tesi cioè se comunque hanno un modo per andare in quelle fasce di popolazione specifica e poi volevo chiedere una cosa magari che ho una curiosità mia magari come quanto pesano come si pesano come media cioè nel senso quante persone riuscite a raggiungere che struttura avete e se la vostra attività è tutta concentrata sui media online comunque youtube instagram canali oppure se avete anche qualcosa senza di essere anche fuori dal mondo online allora la riorganizzerei così farei intanto prima la domanda a lui di un po' di numeri che infatti volevo sapere anche dall'inizio di furor tv come è che dicono furor tv prima e canal red ora no guarda come si chiama come ti chiama scusa una domanda semplice a lui un po' di numeri su furor tv e ora di canal red cioè quanta gente quanti contenuti fanno e che tipo di contenuti fanno insomma se ci descrive un attimo meglio furor tv è un progetto che è ancora molto piccolo che è parte fondamentale della fondazione di lo che è canal red e che ora va a andare autonomamente a canal red però che è un progetto che è vero che è un progetto a gente più jove che canal red è una televisione che arriva a un pubblico generalista più mayor di fatto un pubblico abbastanza mayor se lo vedete numericamente le cifras di youtube e la gente che segue canal red è un pubblico sorprendentemente più più adulto dire che tra i 45 a i 60 sono ora parte del target fondamentale di lo che è canal red a differenza di furor tv dove le cifras sono di 18 a i 35 per esempio c'è una differenza generazione entre canal red di furor fondamentale che ha fatto con la propria concezione di ambos progetti e anche con la gente che impulsa ambos progetti anche insisto ora forme parte di uno stesso anche canal red ha fatto cifras cada vez più alti abbiamo superato los 200.000 suscriptori in question di 5 mesi 6 mesi che ha già existito 200.000 abbiamo molto pochi mesi existito e in youtube già ci sono più di 200.000 suscriptori hai 16.000 suscriptores di pago che pagano una media di entre 15 e 16 euro al mes che è lo che mantiene la struttura del medio di comunicazione che è lo che permette che siamo autonomi del poder economico della pubblicità canal red non recibe pubblicità che è qualcosa molto curioso e particolare a mi mi sorprende enormemente e mantiene la struttura di 20 trabajadores che cobrano una nomina mensual e che llevan a cabo questo progetto tutto lo che ha fatto con il apartato tecnico con la puesta in marcha con la realizzazione audiovisual di canal red lo hizo la productora nostra Furor Furor TV è la che se volcò e è un sistema molto 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 competi con los medios di comunicazione convenzionali che è lo che non podían fare le intentoni che si hanno ha fatto antes in plano mediatico di izquierda e che con asomo podía fare Furor era un progetto quasi clandestino un progetto militante nel che non viviamos di Canal Red permite vivi di di che 20 persone lavorando la parte tecnica si apunti quando surge Canal Red in 24 horas se recaudaron casi 200.000 euros de recaudazione inicial e in cuestión de 3 4 o 5 días se recaudò más de medio millón de euros para la puesta en marcha del proyecto es decir demostró que había mucha gente que quería salir adelante un proyecto con capacidad económica de poder dar esa disputa y lo que ha ocurrido durante muchos años en la izquierda española es que había habido una renuncia a eso es decir ni siquiera se daba esa batalla ni siquiera se entendía lo importante de la batalla mediática se asumía que no era una batalla necesaria que tenía que hacer la izquierda y que eso había que amoldarse a los discursos del poder mediático y no plantear una ofensiva en este sentido porque se podría haber planteado los sindicatos de nuestro país por ejemplo tienen una gran capacidad que tiene Canal Red y son organizaciones con un mayor presupuesto muchísimo mayor hablamos de muchos millones de euros y con una vocación izquierdista bastante izquierdista pero faltaba voluntad política por parte de las organizaciones sindicales de los movimientos sociales y una comprensión de que lo fundamental es lo mediático y lo cultural para luego dar esa batalla social militante etcétera grazie e le hai già fatto la domanda l'aveva fatta dove è andata eccolo lì quindi come si fa ricordo la domanda era come come hanno fatto all'inizio a bucare un po' il muro di gomma dei media mainstream e evitiamo quello Non, per partire dal principio, all'inizio in 2005, al momento del non a la Costituzione europea. A questo momento, Jean-Luc Mélenchon è al Parti Socialista. Il y a un voto, il non l'a remportato, e finalmente, il non è passato a la porta, il ci ha fatto rinare il oui par la fenêtre quando Sarkozy era al governo. Quindi, il y a eu un deni di démocratie, tel che ci ha dégoûtato Jean-Luc Mélenchon, che ha quittato il Parti Socialista, che aveva militato per il oui europeo, e il ha montato il Parti di Gauche. Après il Parti di Gauche, in 2012, per la campagna presidenziale, il ha fondato il Front di Gauche con gli comuni. A questo momento, il y a un posto, il è il di Mélenchon, che è il diputato europeo, Nade Raffi. E a questo momento, in 2012, ha commancato la strategia di contornement dei mediati mainstream con il nome della nostra fightsiki della Commission di Jean-Luc Mélenchon. In realtà, abbiamo comesh dak���so la strategia di contornment dei mediati mainstream a partir del 2012. E in 2017, in 2011, c'era la strategia del brugio e della furezza, del tumulto e del fracasso. Quindi tutto reposava sulla personale di Gianluca Mellenchino, di 2011 a 2012, durante la campagna presidenziale. E quindi fare del brugio ha permesso di farlo entendo per il Partito Médio, anche se si abbiamo preso bianche su bianche. Perché è a partito di questo momento che Gianluca ha commencé a teorizzare la strategia di la conflittualità permanente, strategia che noi continuiamo ancora oggi. Alors, per Gianluca, il lo difendono come una strategia veramente, anche, filosofiche. C'è questo che crea di vita e che crea di debatto, quali a arrivato. E' come questo che si può fare sentire. Quindi, se si on è honnate, tutto repose sulla personale di Gianluca Mellenchino al principio. In 2017, abbiamo creato una web radio che si chiamava « Les Jours of the World». E questo è stato il primo di un progetto che abbiamo messo in place. E questo mi ha fatto pensare a quello che hai detto, Sergio. C'è stato di un progetto che si chiamava una web tv che si chiamava il JT che è la grande messe del 20 ore per le news a la tv francia. Quindi, abbiamo creato un media che si chiamava « Le Media», come l'indipendante. La fantasi al potere. E in effetti, abbiamo creato un po' di media che si chiamava la strategia, che si chiamava l'idea, come Paolo Eglésias lo diceva in la video che abbiamo visto, di concurrenciare le media mainstream di droite. La pluralità, il numero di media indipendanti di gauche. Non, 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 non. oggi c'è dire per revenir anche su la force che abbiamo per trasferire tutto questo la chaîne Youtube di Jean-Luc Mélenchon ha 844 000 abonni e le video di Jean-Luc ho parlato di La Revue della Semana che è stato un rendevo incontournable e che è diventata una emission in soi nel paisaggio audiovisuale francese che si fa di 200 a 300 000 vues per video non, c'è la Revue della Semana di Jean-Luc la Revue della Semana di Jean-Luc ensuite on ha le Youtube del Mouvement La France Insoumise e su il Mouvement La France Insoumise on ha l'émission Populaire la chaîne Youtube fa 82 000 abonni dedans è diffusata l'émission Populaire e on varie entre 20 000 e 100 000 vues per emission l'émission Populaire anche se non sono dei milioni di vues è una delle utilità e se tu vu va-t-il va-t-il è una buona image al Mouvement è una buona è una buona è una buona è una buona di intellettuali dell'Institut Labo S.I. di fare il lien con la società sui e le classi popolari parce che là dans il cadre par exemple della sequenza dei retrati che abbiamo avuto on ha pu inviter dei segluori che hanno témoignato dei facti dei lavoratori dei ouvri dei posti e su il plateau in même tempo il y aveva dei sindicati dei associati e dei intellettuali e in fact per l'émission Populaire c'è come se che l'on montre come la France Insoumise travaille e construit il programma l'avenir in common c'è con il lavoro parlementare qui aveva anche dei elei sui e e il lavoro dei associati e dei syndicati e tutto questo è sempre in una strategia di prendere il governo e non ne s'en caccia non vuole prendere il governo vuole 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 e tutto questo si inserisce in quello che l'on appelle la méthode dell'Unione Populaire la priorità è donna all'unità dell'unità 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 per affrontare gli eventi che ci attendono e l'Unione Populaire è una solution per noi e una methoda è una solution che si propone di civilizzazione umana anche una methoda c'è a dire che senza le persone senza un movimento populaire senza le syndicati e senza le associazioni senza l'Unione Populaire e senza le associazioni umana ok se si traclera ok ok allora come è iniziato per quelli che rimangono come è iniziato per gli storici gli eroi che sono rimasti con noi fino adesso allora come è iniziato tutto no la genesi dell'Alfonsa Sunrise e di questo successo oggettivamente di cui stiamo parlando oggi questa scuola in questo caso studio di cui stiamo parlando oggi inizia tutto nel 2005 e inizia tutto da John Dutmelo quindi questa è una cosa importante da dire cioè la centralità della figura politica che faceva già politica che era nel partito socialista che sarebbe il nostro PD per intenderci si chiama così nel 2005 c'era il voto noi in realtà ci è passato un po' sopra la testa sensibilità diverse Italia e Francia il voto per la Costituzione europea Mélenchon aveva fatto campagna all'interno del partito per votare no a una Costituzione europea ha vinto il no all'interno del PD socialista dopodiché Hollande è Sarkozy a l'epoca che aveva comunque si aveva un rafferendum ma sì sull'annone europea sì il no aveva vinto ma in 2007 su tutto il paese su tutto il paese il no aveva vinto e quando Sarkozy è stato al governo ha fatto passare il rafferendum e il lo PS aveva milito per il il rafferendum ok ok allora rafferendum riforme c'era stato un referendum in Francia per la Costituzione europea si erano spaccati nel senso che Mélenchon voleva fare campagna per il no e il PD socialista voleva farlo dentro il partito c'è stata spaccatura il PD socialista invece ha fatto campagna per il sì ha vinto il no il referendum quindi non doveva farci quando ha dato Sarkozy al potere se ne è fregato come siamo abituati anche qua che i referendum non vengono rispettati nemmeno per scherzo e quindi poi questa roba qui in qualche modo è passata questa è stata un pochettino la genesi se vogliamo quindi Mélenchon poi è uscito dal partito socialista e ha fondato il partito di sinistra che dopodiché è diventato fronte di sinistra nel 2012 per le elezioni europee per la compagnia presidenziale e poi per la compagnia presidenziale per le dati stiamo facendo casino è tardi ragazzi quindi perdonateci comunque dopo di che ci sono state le elezioni europee Mélenchon è stato la strategia era fare rumore fare casino farsi vedere il più possibile anche se poi ti attaccavano è stato eletto e da lì ovviamente fondi visibilità e quant'altro è stata usata la sua figura per costruire come da un altro perso lo sapete già e loro Vittorio Sgarbi ce l'avevano sì esatto quindi da lì sostanzialmente ha creato il canale YouTube e ha cominciato a farsi seguire per aggirare la questione dei media che si diceva il muro di gomma e anche la demonizzazione e quant'altro e diciamo ha adottato quella strategia che porta amati adesso ancora che è la sua filosofia che è quella della conflittualità permanente perché fa dibattito perché fa rumore e quindi di base come dire tiene vivo tutto il movimento nel 2017 si creano delle esperienze simili a quelle di Serpio e cioè si provano a creare una web radio che si chiama giorni felici si prova a creare una web tv per contrastare i telegiornali della sera per offrire una narrazione differente un progetto che poi come dire scema e esplode in tante piccole realtà informative quindi in realtà un ecosistema un po' simile a quello che abbiamo noi adesso in questo momento e dice che a differenza di quanta della strategia della strategia che hanno adottato per Canal Red cioè fare un unico polo che avesse un carro armato invece di una miriade di lanciatori di sassi loro invece hanno valutato che questa miriade di lanciatori di sassi come pluralità aiutasse a diffondere anche in altre nicchie e quant'altro il messaggio e i valori eccetera quindi loro non hanno l'ambizione di fare un polo unico ma preferiscono trovano che sia più utile alla loro battaglia questa pluralità però comunque è una direzione centralizzata in questo no sono tutti piccole realtà piccole realtà indipendenti dopodiché i canali dell'Afghanistan Sumis in realtà ci sono due binari uno sono i canali di Menotion e sul canale di Menotion lui negli anni che si era creato da Mo ha 840.000 follower quindi parecchi e fa per il suo programma settimanale circa 200.000 views di media invece i canali di Afghanistan Sumis sono più piccolini anche qui Afghanistan Sumis poi è andata più tardi ha 80.000 follower circa 82 e fa una media di 20.000 views a video in particolare quelli del suo programma di cui parliamo adesso tra un secondino io aggiungo una cosa il fatto quotidiano ha circa dei numeri molto più grossi si parla di centinaia di migliaia su youtube di follower ma a livello di numeri il momento in cui c'è un dipattito su un tema con anche il direttore del punto il fa circa questi numeri qua 25-30.000 views quindi vuol dire che loro hanno un rapporto molto forte tra follower e visualizzazione posso dire questi numeri sono bassi Ottolina ha 30.000 follower si fa 20.000 views a video e 15.000 sulle dirette quindi sono no nel senso io l'avevo già perché infatti avevo guardato la roba Franz Insumis dal punto di vista di questa roba qua mediatica non fa numeri più di tanto grossi e tra l'altro ora sembra quasi che gli vogliono famare loro fanno un lavoro della madonna ma appunto per capire che sono cose la complessità e l'approccio scusami lo sottolineo no ovviamente ci sta solo da imparare però per capire come appunto questi sono progetti che sono stati funzionando loro sono proprio un progetto di partito loro è un progetto mediatico che se è molto intrecciato con i destini di un altro progetto politico particolare questa cosa qua i numeri che stanno dicendo loro sono numeri bassi e questo è importante molto importante da tenere in considerazione perché nonostante le loro esperienze politiche loro in maniera clamorosa ma anche podemos in maniera clamorosa poi con delle difficoltà dopo però insomma farà una fase molto importante ci raccontano che se la battaglia la contesa è appunto noi diciamo questo è importante penso a voce alta è una riflessione che vi invito a fare e a cui non ce l'ho risposta però se se lo strumento è a disposizione in diretta simbiose del progetto politico noi non avendo un progetto politico si sa solo da stare ascoltare e capire e valutare quando poi si ripresenterà un progetto politico e dico però bisognerebbe fare come la franza di Tunisano però bisognerebbe fare come podemos se il problema è contendere lo spazio della testa essere strutturalmente questi numeri ci dicano una cosa che a me non piace che essere strutturale a un progetto politico ti seda le gambe perché Ottolina sono io e Mario poi c'è un sacco di gente da una mano eccetera però fa numeri simili nati l'anno scorso più piccoli però sono nati l'anno scorso sono io e Mario cioè dura accattati di un certo livello voglio decidere e quindi secondo me questa cosa cioè Pabble non è che voglio fa più dimilation fa più video e fa più video dimilation tra facebook e quindi questa cosa qua secondo me è una cosa da tenere molto in considerazione e quindi è una scelta che va fatta se c'è un progetto politico sì bisogna fare qualcosa se non c'è un progetto politico però probabilmente dal punto di vista dell'ambizione di quanto posso parlare di quanto posso incidere a livello di battaglia culturale no senza il progetto politico non è rafforzativo del progetto mediatico cioè secondo me questi numeri qui ci dicano questa cosa qua allora finisco il discorso che faceva invece sulla parte di immagine di racconto della realtà politica poi sui numeri quant'altro interpreteremo e tireremo le somme anche domani mattina all'assemblea voi siete tutti invitati no vabbè voi lo sapete però è importante questo domani mattina queste cose domani ne parliamo parliamo bene di queste cose c'è l'assemblea per capire cosa fare tutti insieme alla luce anche di questi altri giorni di tutte le cose che abbiamo visto dal punto di vista politico culturale mediatico c'è tutti i panel della comunicazione giù insomma abbiamo lavorato su tanti fronti e queste esperienze ci possono ispirare in una direzione in un'altra ma comunque se ci possono ispirare quindi domani mattina mi raccomando tutti non fate troppo tardi come abbiamo fatto questa notte ecco questa allora niente concludo ci mandate a letto concludo concludo quindi esatto questa cosa è importante che è la questione del metodo dice che il programma che hanno fatto che hanno sviluppato di cui lei è conduttrice che è mission populaire è una piattaforma che loro utilizzano per raccontare quello che è il metodo di lavoro che è sia obiettivo sia metodo e cioè che cosa fanno utilizzano per questa piattaforma che è un talk sostanzialmente per far parlare gli accademici dell'istituto la poesia che hanno creato per creare per fare diciamo il quadro culturale e accademico e teorico che deve sostenere tutto con chi li fanno parlare con gli eletti con chi li fanno parlare anche con per esempio recentemente parlavo di problemi di sciopi non mi ricordo esattamente ma è importante con quelle persone che sono radicate territorialmente nei loro gruppi di azione li invitano e quindi li fanno parlare con ospiti con sindacati associazioni cioè cercano di creare questo contatto questo lavoro che poi è il loro metodo e cioè non una cosa fatta dall'alto per l'alto parlare per parlare ma mettere in contatto mondo reale istanze reali e quella che poi deve essere lo sbocco politico in un rapporto diretto e bidirezionale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti mi particolare perché hai una tensione che io credo che è logico per altra parte che ci sta ma diretti a partiti politici perché la capacità di influire è maggiore però devono avere ambos, devono funzionare in un mismo ecosistema di difusione ideologica in un mismo ecosistema però non legati da forma orgogna e insisto credo che questo peligro anche existe con il nostro progetto di comunicazione e che questa tensione è molto logico che cada volta possa essere più seductora per una parte del progetto è logico perché quando un partito politico ha interessi politici o di sua propria struttura può poter utilizzare il suo altavoz mediatico e è logico che questa tensione sia qualcosa preoccupante per gli obiettivi politici del medio di comunicazione mi tesis è che credo che che ha di avere distanze organiche tra le organizazioni politiche e i progetti di comunicazione emancipatori che stiamo construendo perché, se no, al final molte volte questi progetti acabano servendo più al partito che ai propositi ideologici del medio per questo è importante che sia autonomia periodistica in questi progetti di comunicazione nel caso mio è particolarmente distintivo nel caso di Canal Red perché non ho capire perché non ho capire che ho capire che si che la ha e che hanno che sono progetti più transversali perché, se no, credo che è difficile questa battaglia in condizioni interessante va bene grazie forza Pisa grazie grazie grazie